Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo chi ha partecipato alla qualifica del gioco del club della scommessa numero 12 e cosa hanno pronosticato. Vi ricordo che si partecipa gratuitamente e come ogni mercoledì si deve pronosticare con un commento una partita tra i campionati principali di Serie A, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia, Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 29 fino a 1 aprile. Ma adesso andiamo a vedere chi ha deciso di partecipare e cosa hanno pronosticato. Il primo partecipante, Cosimo Di Viccaro, ha pronosticato Sambudoria e Milan X o gol a 1,60. Poi abbiamo il giro Marzocca con un di Lise Genua 1 e over 1,5 a 3,35. Poi Giuseppe Fascella con Stelta Vigo Villareal over 2,5 a 1,90. Poi abbiamo Giuseppe Liberti con Deportivo Alaves Atletico Madrid 2 a 1,80. Poi Giovanni Di Corato con Brescia Foggia gol a 1,70. Christian Fox Hannover Schalke over a 1,80. Andrea Campese con Roma Napoli gol a 1,50. Luigi Cafagna con Cardiff Chelsea 2 a 1,45. Vincenzo Colucci con Interlazio gol a 1,69. Andiamo avanti con Gianni Persia Carpi Crotone gol a 1,87. Vito Antonio Rizzi con Juventus Empoli 1 e multigol da 2 a 4 a 1,70. Massimiliano Di Benedetto con Lipsia Erta Berlino over 1,50 casa a 1,55. Johnny Praz con Ascoli Benevento x2 over 1,50 a 1,91. Domenico Cardone con Liverpool Tottenham 1 a 1,60. Nicola Di Staso con Entrac Francoforte Stoccarda 1 a 1,45. Poi abbiamo Cosimo Colucci con Lecce Pescara gol a 1,69. Johnny Junior con Friburgo Bayar Monaco 2 e over a 1,55. Gianni Carbone con Borussia Dortmund Wolfsburg 1 a 1,50. E infine Marino La Rosa con Cremonese Verona 2 a 3,05. Le partite pronosticate in totale sono 19. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti sarà un tablet 4 giga di RAM. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non lo avrà indovinato sarà eliminato dal gioco e non parteciperà alla fase successiva di questo gioco, del club della scommessa numero 12. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.